L'overetto ha celebrato mercoledì scorso la patrona, Maria Ausiliatrice, un voto anti-covid il titolo che trovate in copertina del nuovo numero di Vita Trentina, una celebrazione ovviamente rivista rispetto a quello che è la tradizione, mascherine in chiesa, distanziamento, posti contingentati all'interno della chiesa di San Marco. C'era anche il nostro fotografo Gianni Zotta che ha colto il momento forse più significativo dell'intera celebrazione, la lettura della promessa da parte di Paolo Moscatelli, medico chirurgo roveretano che a nome di tutti gli operatori ha ricordato i giorni più duri di questa crisi sanitaria. All'interno del nostro settimanale uscito ieri trovate anche la prima intervista a Roberto Simoni, neopresidente della cooperazione e il bilancio di questi 25 anni in comune del sindaco Andreatta.